Telenor Desta Telenor Desta Telenor Desta Telenor Desta cerca. Forse perché era il destino che aveva già anticipato il futuro, ma il destino non esiste. Per mamma Marina e papà Massimo, per la sorella maggiore Beatrice e per le nonne di Andrea la realtà è durissima, inaccettabile. Andrea era una mia certezza, dice in un messaggio Beatrice, ora c'è il vuoto. Il feretro esce e ne segue un lunghissimo silenzio da parte di tutti. Pare che, come l'apostolo Tommaso, tra l'altro patrono di corte che non credette a Cristo risorto, il popolo che ha amato Andrea Bellingardo non creda che non ci sia più a soli 19 anni. A 16 anni cadde con la moto in via Due Palazzi a Padova e morì. Una delle cause del fatale incidente fu, secondo il Tribunale, un difetto nell'asfalto della strada. Ora il comune dovrà risarcire la famiglia del giovanissimo motociclista. Un gradino sull'asfalto di via Due Palazzi, creato da uno strato nuovo e uno vecchio di bitume, è stata la concausa della caduta dalla moto che il 10 novembre 2017 costò la vita al sedicenne Viorel Catavelea. Il giovane centauro stava tornando a casa, a Ronchi di Villafranca, da scuola. Era in sella la sua Yamaha 125, quando nella via del carcere la sua due ruote ondeggiò bruscamente su un gradino che si era formato tra uno strato di asfalto vecchio e uno nuovo. Il ragazzo, secondo la perizia del consulente della procura, l'ingegnere Gianfranco Fais, per questo frenò e perse il controllo della moto, scontrandosi poi contro uno degli archetti a protezione dei pedoni alla sua destra e finendo poi addosso alla recensione di una casa. Il Tribunale in sede civile ha stabilito un 20% di responsabilità dell'incidente mortale al comune di Padova, che dovrà risarcire con 170 mila euro la famiglia di Viorel Catavelea, più altri 25 mila di spese processuali. Il restante 80% di responsabilità è stato stabilito a carico del ragazzo, che sempre secondo la perizia viaggiava ai 70 all'ora in una strada con limite di 40. Adesso la situazione del West Nile, come sappiamo sono 70 il bollettino, l'aggiornamento di ieri in Veneto, i casi di questi 40 nel Padovano. Sono 70 i casi di West Nile in Regione Veneto, di questi 40 sono sul territorio Padovano, Rovigo e Treviso con 9 casi, Venezia con 7, Vicenza 3 e Verona con 2 casi. I morti sono stati 6-5 in provincia di Padova, l'età media si aggira intorno agli 82 anni. I medici di base, per voce del loro segretario regionale, il Padovano Domenico Crisarà, confermano che sono subissati di richieste e di consigli su come difendersi dalla febbre del Nilo. I numeri, seppur più bassi del Covid, preoccupano i cittadini. Il contesto climatico che stiamo vivendo, con corsi d'acqua molto rallentati a causa della siccità, permette il proliferare di zanzare che sono il vettore su cui si muove il virus. I consigli sono quelli di evitare che ci siano ristagni d'acqua nelle vicinanze dell'abitazione, di proteggersi con dei repellenti e di indossare pantaloni e maglie a maniche lunghe. Non è solo la West Nile presente sul territorio, si contano infatti 10 pazienti con la febbre Dengue, 2 con il Toscana Virus, 27 con la TBE, la malattia trasmessa dal morso delle zecche. Auto in fiamme a Conselve, l'autista è riuscito a mettersi in salvo da solo e a guardare il mezzo poi prendere fuoco. È riuscito solo ad uscire dalla macchina intuendo che qualcosa non stava andando bene. Appena fuori dal mezzo il rogo ha distrutto completamente l'auto. È successo venerdì sera verso le 8 in via delle industrie a Conselve. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della stazione di Piove di Sacco. Poco più di un mese dall'inizio della scuola, gli uffici scolastici al lavoro per la assegnazione delle cattedre. Come si annuncia questo nuovo anno scolastico che si apre? Come tempistiche siamo abbastanza in linea. Abbiamo da pochissimi giorni completato le emissioni in ruolo dai concorsi e dalle graduatorie di esaurimento. Completata l'assegnazione delle cattedre, il lavoro si sposta sulle supplenze annuali fino al 30 giugno 2023 o al 31 agosto 2023. Adesso partirà una procedura che si chiama col veloce, cioè la possibilità per chi è graduatore delle altre regioni di poter essere assunti nella regione del Veneto, nelle province del Veneto. Dopodiché partiremo per posizioni ancora scoperte con le supplenze, che è un dato abbastanza fisiologico. Ma siamo abbastanza in linea, anzi con qualche giorno di anticipo rispetto allo scorso anno. Questo ci aiuta a verificare anche le posizioni dei tantissimi richiedenti che hanno appunto fatto istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali supplenze. Oltre 20.000 le domande di supplenze annuali arrivate per la provincia di Padova, metà delle quali giunte da insegnanti residenti al sud. Nel frattempo tutti sono in attesa di conoscere il sindaco di Cittadella e il sindaco di Cittadella. Luca Piero Bon e i rappresentanti degli industriali. Un incontro definito interlocutorio, confermano i rappresentanti dei lavoratori. Ci sarà quindi un altro incontro il prossimo 5 settembre dopo la pausa estiva. Notiamo che ci sono molte difficoltà a fare questo negoziato. Ovviamente abbiamo manifestato la nostra disponibilità a fare gli incontri e a chiarire tutte le posizioni. Per cui oggi è assolutamente un incontro interlocutorio. Abbiamo ribadito che trattative con i lavoratori in ferie non ne facciamo. Per cui abbiamo appuntamento il 23 di agosto con la ripresa lavorativa dell'azienda per un'assemblea con i lavoratori e il 5 settembre per un incontro di approfondimento sulle tematiche che sono emesse. Al termine dell'incontro i rappresentanti del Consiglio di amministrazione dell'azienda hanno dichiarato il loro apprezzamento e ringraziamento verso il Prefetto Grassi e le istituzioni presenti per il ruolo di intermediazione. I vertici aziendali hanno comunicato ai sindacati e alle istituzioni di aver provveduto al pagamento degli arretrati dei fondi che ammontavano a 680 mila Euro. La giornata da Bolino Nero oggi per il traffico delle vacanze. Allora siamo andati all'imbocco dell'autostrada A4 a Padova-Est per vedere com'è la situazione. Il nostro Guido Barbato in diretta. Guido, buongiorno, ti vedo. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, la giornata è decisamente di quelle impegnative sul fronte del traffico autostradale e anche, suppongo, da notizie che abbiamo su quello delle strade regionali e statali. Siamo con il commissario capo Giovanni Rossi del primo centro operativo di Polizia Stradale di Padova. Mi stavo perdendo un po', non è sempre facile ricordare tutto a memoria. Per fare un po' un bilancio su quanto sta succedendo soprattutto intorno a Padova, città attraversata da due autostrade, la Padova-Bologna e la Padova-Venezia. È proprio in questa direzione forse che da stamattina le cose sono, come è noto, magari un po' rallentate o complicate. Ci dica, commissario capo. Allora abbiamo un traffico molto critico nella corsia est della 4, ancora da stamane. Fra l'altro dopo le 10 di mattina vi è stato un incidente fra Padova-Est e l'interconnessione con la 13 che ha determinato questo tipo di situazione. Attualmente il traffico è intenso a fisarmonica con code a tratti già da Padova-Ovest sino alla 57. Praticamente è quando si arriva al bivio tra la tangenziale di Mestre, direzione Venezia e il passante di Mestre che il traffico rallenta, se non ricordo male. Sì, questa è la zona, poi il passante è meno critico, il traffico scorre più agevolmente. Abbiamo situazioni nella zona attorno a Padova, parlando del tuo piano di Asiago, di rallentamenti in uscita, più vene rocchette per gli utenti che raggiungono il tuo piano di Asiago. Se parliamo di autostrada A4, nella zona del lago di Garda, se può interessare, abbiamo un traffico molto intenso in uscita per gli utenti che raggiungono i vari parchi di divertimento e già la problematica di traffico intenso è già da Brescia sino a Peschiera, Somma Campagna. Sulla direzione Padova-Bologna ci sono state delle scritte un'ora fa che dicevano coda anche all'ingresso di zona industriale Padova. Sì, le confermo questo tipo di situazione, poi peraltro quell'autostrada viene seguita dai colleghi del COA di Bologna, però le confermo la situazione che lei ha detto. Informiamo rapidamente i nostri ascoltatori che dovessero partire nelle prossime ore, il traffico pesante è attualmente fermo e lo resterà fino a che ora? Lo resterà fino all'ora 22 e riprenderà il fermo domattina alle 07 sempre fino alle 22, perciò il traffico pesante tranne quello in derogo autorizzato non c'è. però c'è questa situazione di traffico leggero che è molto molto intensa, perciò massima attenzione e dedicarsi esclusivamente alla guida. Anche questo è vero, quindi massima attenzione e mani sul volante e occhi soprattutto sempre verso il parabrezza. Altri consigli? Tenersi informati, insomma non è difficile di questi tempi. Io direi che dare consigli sulle solite cose, cinture lacciate, posti anteriori, posteriori, quando ci si è stanchi ci si ferma, ma soprattutto pensiamo che un incidente, dopo l'incidente la tua vita cambia completamente, perciò guidiamo e basta, lasciamo stare i telefonini, siamo responsabili di chi portiamo e degli altri utenti della strada. Bene, ringraziamo allora il commissario capo del primo compartimento di polizia stradale di Padova Giovanni Rossi e la linea allo studio per il seguito del nostro telegiornale. Grazie, grazie a Guido Barbato. Torniamo a Padova, il sindaco Sergio Giordani ha dato la sua disponibilità a diventare il nuovo presidente della provincia. Il posto lasciato vacante da Fabio Bui e ora retto dal suo vice Vincenzo Gottardo dovrebbe essere assegnato il prossimo settembre con l'elezione da parte degli amministratori locali della provincia eugane. Nei partiti mi hanno chiesto, ho dato la mia disponibilità, spiega Giordani, ritengo che la provincia sia un ente importante e l'elezione del nuovo presidente nulla deve avere a che fare con le elezioni politiche. Voglio ricordare che Palazzo Santo Stefano è la casa dei comuni che hanno pari dignità a prescindere dalle dimensioni. E adesso sui colli euganei, i colli euganei che guardano a un agosto e a un settembre per il rilancio del comparto turistico e termale dopo due anni davvero complicati. Entra nel vivo la stagione turistica per i colli euganei dove il termine turismo va a braccetto con un territorio unico dal punto di vista ambientale e con un comparto termale fra i più importanti d'Europa. La prima parte della stagione infatti è stata penalizzata dalle scorie portate dalla pandemia, dalla guerra in Ucraina e ora anche dal gran caldo. Siamo però convinti che le piogge di questi giorni, la diminuzione della temperatura e soprattutto il fatto che stiamo andando verso un agosto e un settembre che sarà veramente importante di rilancio per il nostro territorio avremo un buon afflusso e quindi di conseguenza le nostre eccellenze ritorneranno ai fasti del 2020. Il 2020 rappresenta infatti un termine di paragone, un punto di svolta anche per i colli euganei che hanno avuto due anni per prenderla in corsa. Siamo stati molto svantaggiati rispetto alla pandemia in primissima istanza dovuto al fatto che comunque il lockdown e le chiusure hanno comportato una chiusura poi generalizzata delle nostre tutture con tutti i problemi poi della riapertura e la guerra sicuramente ha comportato una crisi più che altro psicologica rispetto a quella del movimento del turista, un'insicurezza di carattere economico, però speriamo veramente che questo settembre, al fine anno, ci dia un rilancio veramente importante. I colliugani hanno nel proprio DNA la capacità di rispondere alle sfide di oggi e di domani e possono proporre a qualsiasi genere di turismo uno scrigno invidiabile di meraviglie. Ecco cosa possono trovare turisti e visitatori nel territorio. Troveranno delle strutture recettive che sono molto moderne rispetto a quello che è il panorama delle termine in generale non solo in Italia ma anche in Europa. il fatto che comunque le terme sono immerse in un territorio meraviglioso sotto l'aspetto naturalistico, il fatto che comunque ci sia una consapevolezza da parte di tutti i turisti e soprattutto dei residenti che il nostro turismo deve essere sostenibile e deve garantire quello che è l'equilibrio del nostro ecosistema naturale. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti.